Johnny è Nio, sono grandi amici, sono veri amici, Johnny è Nio. Johnny, cosa stai facendo Johnny? Ehm, sto facendo... No, no, no! Mi do un pugno! Non dargli un pugno Johnny! Gli ho riservato un pugno! Mi do un pugno! No, non dargli un pugno! No, non farlo! Ti do un pugno! Fetto! Mi do un pugno! Ecco! AHHHHH! purò